Cecilia Pampina è l'altro successo, ho raccontato già qualche tempo fa di tuo successo a livello mondiale e che questa volta arrivato all'interno del mondiale ISA in Francia, è una gara molto particolare ci racconti le tue emozioni per questo nuovo acuto che hai avuto? È stata una gara molto particolare perché era in una location, c'era un mare molto mosso, quindi c'erano le onde bisognava appunto surfare l'onda e essere bravo con il mare io fortunatamente sono riuscita a sfruttarlo a mio favore la gara è stata molto particolare perché al primo giro sono partita, tutto bene, avevo preso comunque di stacco dalle altre poi però mi sono trovata in un punto in cui l'onda frangeva e quindi me la sono ritrovata dietro ed era molto difficile da controllare poi però appunto le altre due ragazze mi sono passate avanti, quindi mi sono fatta altri due giri dietro e all'ultimo mi è arrivata un'onda enorme, io non avevo mai visto un'onda del genere e sono riuscita appunto a tenerla e a superare la ragazza che era prima vincendo così appunto il mondiale e ha giudicato questa medaglia d'oro È stato più istinto, bravura, anche un po' di fortuna che non guasta mai in certe situazioni In gare del genere ci vuole, diciamo, c'è la fortuna anche del mare però penso ciò che è successo a me all'inizio è che sono caduta, poi è successo alla ragazza che era prima che è caduta quando io in realtà poi dopo non sono caduta quindi diciamo è stata una cosa che è successa a entrambi di cadere ed è andata così Grande esultanza anche da parte di tutto il quartiere generale italiano anche perché poi l'Italia anche grazie ai tuoi risultati è arrivato quarto nel medagliere nella rassifica generale Quest'anno abbiamo fatto un risultato veramente importante, siamo arrivati quarti al mondo per una nazione come l'Italia è veramente tanto perché davanti a noi ci sono comunque delle nazioni che si allenano sempre in mare aperto, cioè in mare mosso mentre in Italia è difficile trovare condizioni in cui magari ci sia onda che frange e onde grandi però con questi risultati diciamo sono molto fiera di aver partecipato a questo quarto posto E poi c'è una cosa molto particolare, la rischiamo in questo momento perché tu hai portato un po' di sabbia di Civitavecchia direttamente lì in Francia, per quale motivo? Ci spieghi cosa succede a questo tipo di manifestazioni? Nella parata delle nazioni che avviene appunto un giorno prima dell'inizio del mondiale tutte le nazioni portano la propria sabbia, la sabbia del proprio paese e a turno diciamo si mettono tutte le sabbie tutti insieme in modo da far vedere appunto che siamo tutti uniti tra di noi e che il mondo appunto è unito Grazie a tutti! Grazie.